...che si sta convertendo il salone in una sala di registrazione dove si svolgerà il famoso pannello a bordin. Siamo in compagnia di Michele Capanno che è stato a diretto ai lavori, è presidente del comitato, lo sarà per il prossimo anno. E' stata una prima volta, credo per lui, è stata dura e ovviamente gli chiediamo una prima considerazione su questo, come ne è uscito. Sì, devo dire che facendo parte, come ho detto, del comitato fin dal suo esordio oltre dieci anni fa, avevo un po' esperienza non di presidenza ma delle dinamiche che a volte possono, particolarmente nella conclusione dei lavori, crearsi. Sì, effettivamente abbiamo avuto molti documenti alla fine, c'erano due raccomandazioni, sette mozioni particolari e due emendamenti proposti rispetto alla mozione generale e questo inevitabilmente ha creato una fase di dibattito piuttosto concitata. Mi auguro di avere con equilibrio consentito ai compagni di manifestare gli impegni per i quali avevano depositato i documenti. Naturalmente c'è sempre qualche contraddizione o comunque qualche delusione rispetto alle valutazioni che la Presidenza è chiamata a fare in ordine all'inammissibilità. Mi auguro di avere gestito con equilibrio una fase nella quale, ripeto, inevitabilmente non si riescono a accontentare tutti. Devo dire che comunque ho avuto da parte di molti compagni dopo la conclusione dei lavori un riconoscimento e questo è quantomeno un incoraggiamento per proseguire il lavoro nel miglior modo possibile in questo anno, Gianni. Sì, c'è stato anche qualcuno che insomma, se niente si sente superiore, ti ha consigliato di studiare qualcosa per la prossima volta, va bene. Comunque sì, no, ti voglio chiedere un'altra cosa che generalmente chiedo anche agli altri presidenti, ho chiesto dei comitati nazionali. Quando si ha questo ruolo ovviamente bisogna soprattutto apparire, perché poi ovviamente non lo si è, imparziali, perché ognuno ha un'opinione. È un po' dura perché poi insomma lì per lì non si possono prendere decisioni. Adesso non so se ci sono anche limiti per quanto riguarda le votazioni, però insomma nei momenti più concitati è anche un po' limitante la cosa castrante. Sì, però devo dirti che siccome questo comitato si è aperto con le relazioni di segreteria e tesoreria e si è chiuso con una mozione generale che sono contrassegnate le relazioni e la mozione generale finale da una forte rivendicazione del ruolo di radicali italiani, della sua dignità nel contesto pure degli altri soggetti dell'area radicale, devo dire che presiedere un organismo che da parte del segretario e del tesorerio stesso viene vissuto come rappresentativo di un soggetto che rivendica la sua dignità nel contesto dell'area radicale è stato credo più facile che in passato perché anche rispetto alla fase concitata che ha preceduto questo comitato e che ha visto la presentazione delle liste Amnistia, Giustizia e Libertà anche con le polemiche che hanno accompagnato questa presentazione e questa mancata presentazione in alcune regioni, nell'ambito della cui fase concitata c'è stato spazio l'abbiamo sentito anche in questo comitato per una serie di rilievi rispetto a quello che radicali italiani avrebbe potuto fare non affatto riguardo a questa presentazione io credo che il dibattito abbia segnato la rivendicazione invece dell'impegno per quanto possibile di radicali italiani e torno a dire sia stato accompagnato da una chiara, forte assunzione di responsabilità in ordine alla dignità del movimento di cui sono dirigenti da parte di Mario Staderini e di Michele De Lucia questo contesto credo che ha facilitato l'esercizio di un ruolo che come tu dici deve essere un ruolo innanzitutto di garanzia delle funzioni del comitato di radicali italiani e naturalmente della libertà di espressione e di partecipazione alla deliberazione dei membri del comitato di radicali italiani Grazie Michele Capano, non so se conosci LibriTV, ti invitiamo a seguirla così troverai questa intervista e anche altre che abbiamo fatto Grazie ancora Grazie mille Grazie mille Grazie mille